E' tutto pronto con la palla 2 che verrà contesa da Galmarini e David Berkic. Tutto veramente pronto qui al Carisport di Cesena. Viene dato l'ok dall'arbitro e dal tavolo tutto pronto, pronti per entrare dentro Amadori, Tigers, Cesena, Agriber, Tokio, Orzi, Nuovi. La palla 2 vinta da David Berkic e può pompare il palleggio Matteo Battisti che serve in punta Andrea D'Agnello, davanti a lui la marchiatura di Giacomo Siberna. De Fabritis si prova ad andare a prendere la linea di fondo, non viene tenuto da Vincenzo Pipitone il primo passo di Antonio De Fabritis. Primo fallo per Pipitone, primo fallo ovviamente anche di squadra rimessa dal lato corto in zona d'attacco per la Amadori Cesena con Matteo Battisti. Pronto a rimettere per Andrea D'Agnello che riceve ora la palla, scambia palla e libero il tiro da 3 punti. D'Agnello lo sbaglia, il tap out non riesce, anzi favorisce la transizione di Orzi, Nuovi. Attenzione, poteva sganciare il tiro ma si ragiona, almeno così indica Tommaso Bianchi che va a cedere poi palla a Michele Peroni. Si gira allora in angolo per tornare nuovamente fuori, spazi chiusi nel cuore del pitturato e allora si deve cercare la tripla che non arriva. Il rimbalzo però premia Orzi nuovi e i primi due punti del match sono di Lorenzo Galmarini. Battisti lungo l'auto di destra, osserva il posizionamento, chiama il giro in attacco ai compagni. Daniello a sinistra per Antonio De Fabritis, fallo in attacco. E dovrebbe essere il fallo di Francesco Papa, primo fallo personale anche per Francesco Papa. E soprattutto Fulvio, palla persa dopo aver subito il canestro. Si, arrembante. Arrembante l'inizio dell'Agri Bertocchi, Orzi nuovi. E' temibilissima questa formazione, reduce da tre successi consecutivi nell'ultime tre partite. Retrocessa l'anno scorso dalla Serie A2, ha dimostrato nell'ultime tre partite di campionato di essere veramente in palla. Ma seguiamo l'attacco di Orzi nuovi, la difesa sempre individuale di Cesena. Bianchi, palla in the paint, si lotta, Papa, lo scarico e altri due punti. Ancora segno, Galmarini, ancora 4 a 0 per Agri Bertocchi, Orzi nuovi in questo inizio di partite. 4 a 0 e 4 punti per Galmarini, punti catturati tutti dal pitturato. Vediamo ora Papa a gestire la manovra, il post basso di David Berkic, che scarica ancora per Andrea Daniello. La bomba di Andrea Scarabozza, Daniello. 4 a 3 con i Tigers che stanno inseguendo. E la palla che viene gestita ora da Tommaso Bianchi, la cede in punta a Galmarini. Viene aiutato Galmarini da Zacco Mossiberna. Lo scarico ancora fuori, sempre arciglia la difesa di Cesena. Fuori ancora il tentativo da 3 punti, la bomba che non c'è il rimbalzo di David Berkic, che non riesce però a gestire la palla. Chiama a fallo, coach Di Lorenzo. Ha ragione. Non è dello stesso avviso. E allora Galmarini a sinistra per Peroni, quindi dal cuore della lunetta. L'errore rimbalzo di Papa con una spinta. Anche quello è fallo. Anzi no, la conserva, la palla Berkic insieme a Matteo Battisti si può tornare a ragionare. Fasi convulsa e subito in avvio di partita. Qualche fallo che è rimasto dentro al fischio dell'arbitro. David Berkic! Ne va il problema! Due bombe e Cesena è avanti. 6 a 4 ed è buona l'interdizione in difesa del capitano con la rimessa che viene concessa. 14 nuovi e 16 secondi sul cronometro dei 24 per raggiungere alla conclusione. 7-0-7 ancora da giocare in questo primo quarto partito con ritmi sicuramente molto elevati. Difese Arcigne, ritmi elevati. Fuori la palla lungo l'arco del 6.75 gestito in questo... Guarda la maglia di Papa! Ci si lavora ai fianchi la bomba che non arriva da parte di Jacomo Siberna. Il rimbalzo favorisce i Tigers questa volta con la Amadori Cesena. Con De Fabritis che ha fatto un pensierino alla tripla. Poi vuole ragionare Berkic ancora a De Fabritis. 13 secondi per la conclusione. Buona la difesa di Orze Nuovi che recupera palla. Si può correre in transizione ma è buona anche la difesa di Cesena che torna a chiudersi. Tra gli applausi del pubblico presente numerosissimo questa sera qui al Carisport di Cesena. Palla gestita ora da Siberna. Viene fatta pompare fuori 7 secondi per la conclusione. Ed è Antonio De Fabritis a commettere fallo sul tentativo di conclusione di Tommaso Bianchi. Ci saranno quindi due tiri liberi per Bianchi in lunetta dopo il primo fallo commesso da Antonio De Fabritis. Secondo di squadra per Cesena. Una chiave Fulvio sicuramente la prestazione difensiva. Orze Nuovi anche squadra che concede appena 59 punti e mezzo in trasferta. Quindi anche questa una battaglia come quella di domenica scorsa in quella del Palacattani a Faenza dove le difese hanno letteralmente dominato. Il match due su due intanto per il giocatore di Orze Nuovi. Perfetta parità anche a Carisport quando siamo a 6.19 al termine del primo quarto. Matteo Battisti prova a sfruttare il blocco di Daniello. Riceve palla il numero 3 lungo la fascia sinistra dell'attacco Cesenate. Battisti in punta ora va a cercare il gioco nel cuore dell'area. Finalmente. Perché se che va a subire il fallo di Pipitone dovrebbe essere il secondo fallo personale. Così è secondo fallo personale di Pipitone. Secondo fallo anche di squadra per Orze Nuovi. Coach Salieri ordina immediatamente il cambio. Scende proprio Pipitone al suo posto. Varaschini esordisce nel mezzo con il numero 8. Con la rimessa che viene affidata alle mani di Matteo Battisti. Lato corto, zona d'attacco. 14 secondi per la conclusione. De Fabriti spinta la tripla, poi dà le spalle all'avversario. Ribalto al lato, anzi si arriva in punta da Andrea Daniello. Che si sposta verso David Berkic. Si impunta ancora per Francesco Papa. Deve arrivare fino in fondo. Francesco Papa sbaglia. La palla non ha toccato il ferro. E allora 24 secondi. In frazione per la Amadori Tigers del Cesene. Quindi la rimessa per Agribertocchi e Orze Nuovi. Con l'ennesima palla recuperata dalla formazione Lombarda. 6 pari, 5-51 da giocare al termine del primo quarto. Con la palla che viene poppata da Tommaso Bianchi. Quindi ne è entrato Varaschini in punta. Cede palla a Galmarini. Si continua a muore palla. Ma non si trova lo spazio per penetrare per Orze Nuovi. Si prova ancora. Buonissimo l'appoggio di Galmarini. Tutto Galmarini nell'avvio di Orze Nuovi. 6 degli 8 punti sono suoi. Berchic intanto per Daniello. Ferma il pallenso per servire ancora Berchic lungo l'arco. Che fitta la tripla, lo scarico per Francesco Papa. La bomba! Di Francesco Papa! 9 punti Cesena. 3 bombe a segno. Questo è il migliore Grimaldello per rompere questa difesa molto arcigna di Orze Nuovi. Molto fisica anche. Ancora Galmarini che si alza, tira e sbaglia. Il rimbalzo lungo però favorisce Tommaso Bianchi. Che può gestire l'azione per i suoi. Pallesomancino lo ferma. Ma c'è spazio, non c'è però la precisione. E allora Antonio De Fabritis. L'ugol out di destra davanti alla marcatura di Peroni. Il servizio per David Berchic che va a sinistra da Matteo Battisti. Berchic lotta di fisico. C'è lo spazio! Matteo! Battisti! 11-8 più 3 Tigers e 4-25 al termine. Penetrazione chirurgica. Intelligenza contro l'attimo Matteo Battisti. E ha tagliato la difesa. Ma ora seguiamo l'attacco di Orze Nuovi. Ancora Galmarini sotto per un po' sbasso tra piccoli. Vediamo il duello. Rischia quasi di vincerlo Matteo Battisti che non riesce a recuperare la palla. Ma lascia 5 secondi sul cronometro dei 24. Solo 5 secondi per chiudere l'attacco per Orze Nuovi. Non sono molti. E il tempo di una tripla che arriva firmata dal capitano Michele Peroni. unici pari al Carisport. Quando mancano esattamente 4 minuti al termine di un gradevolissimo primo quarto. Matteo Battisti va a cedere palla a sinistra per Antonio De Fabritis. si alza il tifo qui al Carisport e Fabritis. Pallezo dietro la schiena. Fuori per David Barchi. Mamma mia. Una bomba da distanza siderale. 14 a 11. Precisione dall'arco chirurgica per i Tigers. Cesena in avvio di Metz. Però ogni tanto si arriva sotto da Galmarini. Prova di Andrea Daniello che può arrivare in finito. C'è il fallo. E viene toccata la palla. Palla piena dice il direttore di gara. 21 secondi per l'attacco di Cesena. Primo cambio. Quina di Cesena in campo. Ferraro per Pappa. Per Cesena scende Pappa. Entra in campo Ferraro. Non è stato fischiato il fallo a favore della Madori. Brutta rimessa. Rigodagna Pallorzi nuovo in attacco. In transizione. Va a sbagliare. Ma è buona anche la difesa di Andrea Daniello. Che ha scortato l'avversario fino alla conclusione. Battisti nel traffico. C'è il fallo prima ovviamente dell'azione di tiro. Ma... Già la seconda volta che il primo passo di Matteo Battisti mette in difficoltà la difesa. Prima i due punti. Ora il fallo. Ma soprattutto adesso il cambio. Andrea Raschi sul cubo dei cambi. Con il numero 11 pronto ad entrare in campo al posto di Antonio De Fabriti. Il 14-11 Tigers quando siamo a 3-0-9 dalla fine del primo quarto. Arriva il professore. In campo il professore Andrea Raschi. C'è qualche problema? Sì, deve cambiare Galmarini perché se ha ricevuto un colpo sul labbro sta perdendo sangue da regolamento. Il direttore di gara ha ordinato il cambio. In campo Pippi Tonne lo ricordiamo già gravato di due palli al posto dell'ottimo, ottimo Galmarini di questi primi minuti di gioco. Raschi intanto ha la rimessa per David Berkic che c'è di palla. Matteo Battisti ragiona col palleggio. Il playmaker Cesenate per andare poi a destra da Andrea Raschi. Si apre ottimamente il passaggio per Berkic che rischia di perdere palla. Tiene però la maniglia. Poi tira, sbaglia, il rimbazzo premia. Orzi nuovi che può impostare schema 3. Quello chiamato dal numero 15 Tommaso Bianchi che fa circolare palla lungo. L'arco del 6,75. Ancora Bianchi mette sul palleggio. Non c'è spazio. Deve aprire per la bomba che non arriva da parte di Varaskin. E sotto canestro. C'è fallo in attacco. Il fallo di Pipitone. Terzo fallo personale per Pipitone. Non una grandissima notizia per Coach Salieri. Pronto a rimettere in campo Galmarini. Dopo il cambio obbligato. Cambio anche per Cesena. Costi Lorenzo offre minuti di riposo. David Berkic al suo posto. Esordisce nel mezzo con il numero 18. Michael Sacchettini. Ma si è ripreso intanto con Daniello che ha ceduto palla. Matteo Battisti che avanza ora. Oltrepassando la linea di metà campo. Daniello sulla destra. Pozza giù il palleggio per andare poi a servire. Massimiliano Ferraro ancora Daniello. Il blocco di Sacchettini. Daniello lavora il palleggio e poi passa a Matteo Battisti. Pronto il blocco per Michael Sacchettini che da spalla all'avversario si gira. Tira. Michael Sacchettini sbaglia. Il rimbasto viene scorcato. Ma viene catturato da Cesena. Altra opportunità di tiro per la Amadori Cesena. Matteo Battisti. In angolo è liberissimo. Lo può non tirare. Massimiliano. Ferraro. 17 a 11. Massimo vantaggio Tigers. Più 6 a 1.52. Dalla fine del primo quarto. Statistiche clavorose dall'arco. Per Cesena. Prova a rispondere. Orti nuovi non arriva. Arriva invece il rimbalzo di Michael Sacchettini che fa correre lungo l'auto di sinistra. Matteo Battisti che si ferma e ragiona. Giustamente. Matteo Battisti trova. Prova. Una tripla. Poteva forse orchestrarla meglio questa azione. Vediamo ora l'attacco di Orsi nuovi. La palla che viene costantemente giocata fuori. Bianchi. Bianchi. C'è lo spazio. Attenzione. Era una buona idea. Però non sono arrivati due punti. Qui c'è un fallo al limite. Al limite dell'antisportivo. 17 a 11. Ed è il quinto fallo per Orsi nuovi. Quindi ci saranno due tiri liberi. Dopo però il time out chiesto da coach Salieri. Noi ci risentiamo fra poco. Questo fondamentalmente è quello che in questo momento sta spostando gli equilibri in questo primo quarto che riprende dopo il time out chiesto da coach Salieri con i due tiri liberi di Matteo Battisti avendo Orsi nuovi terminato il bonus. Sono solo due i falli di squadra per la Amadori Tigers Cesena. Buono intanto il primo tiro libero del playmaker romagnolo. Accolto con l'applauso del numeroso pubblico qui al Calisport. Guarda. Assolutamente. Sta arrivando ancora gente Frambu. Assolutamente di quelli importanti. Sbaglia il secondo il tap out di Michael Sacchettini. Mantiene il possesso Cesena che attacca ancora lo scarico fuori per Ferraro. che fa girare palla per Sacchettini che finta il consegnato. Si vuol girare lui si fa stoppare da Calmarini sugli scudi per Orsi nuovi. Orsi nuovi che può nuovamente impostare a 50 secondi dal termine del primo quarto ma continua a fare fatica a trovare posto a spazio nel pitturato addirittura un passaggio a Daniello da parte del giocatore di Orsi nuovi. Matteo Battisti che può allora orchestrare la manovra offensiva. In questo momento è Daniello col palleggio mancino. Si arriva in punta da Andrea Arraschi. Il movimento di Sacchettini ma si arriva da Massimiliano Ferraro che sbaglia la tripla. Il rimbalzo è dell'ottimo Galmarini che può far correre dall'altra parte del campo. Bianchi si deve ragionare. Questo dice con il cronometro. Questo dice coach Salieri a 12 secondi e due decimi. Quando arriva il fallo di Matteo Battisti. Primo fallo personale per lui che si accomoda in panchina al suo posto. L'esordio nel match è di Emanuele Trapani. Fresco di convocazione con la nazionale Under 20. 18 a 11 più 7 Tigers. 12 secondi e due decimi al termine del primo quarto. Tommaso Bianchi alla rimessa. Prova a fare il movimento Peroni ma si arriva dal neo entrato in campo. Mirko Turel con il numero 10. Prova a fare... Offre lo scarico per Varaskin che sbaglia ma arriva il tapin del solito Galmarini e termina il primo quarto sul 18 a 13 per Cesena. Noi ci risentiamo fra poco. Cari Sport per tutti gli appassionati e gli amici collegati sulla pagina YouTube di LNB 18 a 13 il punteggio con il quale si riprenderà i punti importanti. Vicevamo Fulvio ad inizio di Cronaca. Perché? Perché Arzinuovi è dietro a Cesena di 4 punti. Una vittoria eventuale della Amadori porterebbe la formazione romagnola a più 6. Sarebbe una distanza importante ovviamente in ottica. Primo obiettivo che è quello della qualificazione in Coppa Italia. Certamente. Questo è un obiettivo importantissimo da accogliere per la società qui a Cesena per la prima volta quest'anno. Un obiettivo importante dopo aver trovato uno sponsor importante come la Amadori. Seguiamo l'inizio di questo secondo quarto. La rimessa in gioco è per Orzinuovi. che fa manovra subito palla con Tassinari per Baraskin e quindi con il numero 10 Mirko Turel. E c'è la recuperata per Cesena con il fallo in attacco. Primo fallo personale per Turel, anzi di Baraskin. Rimessa quindi affidata alle mani di Andrea Raschi che va a cedere palla a Emanuele Trapani. dicevamo fresco di convocazione con la nazionale Under 20. Lui prodotto della stella azzurra Roma. Raschi poggia giù il palleggio. Gioco spalle a canestro. Il fallo della difesa e viene sanzionato a Mirko Turel. Primo fallo personale per il numero 10. Maglia Agribertocchi. Secondo fallo di squadra per la formazione di Colso Salieri. 18-13 ancora il punteggio. Trapani sotto per Massimiliano Ferraro che apre per Andrea Daniello. Da tre punti sbaglia. Il rimbalzo premia però Orfi Nuovi. Turel a gestire palla. Tassinari. Palla che circola continuamente lungo l'arco del 6.75. Non c'è spazio per arrivare nel cuore dell'area. E allora bisogna inventarsi qualcosa. E l'idea tutto sommato alla fine non è delle malvagie perché il tentativo di Varaskin comporta il primo fallo personale di Emanuele Trapani. L'opportunità per Orfi Nuovi di mandare Varaskin in lunetta. Pronto per Cesena sul cubo dei cambi. Antonio De Faberitis mentre è buono il primo tiro libero del numero 8 in maglia blu. 9-12 al termine del primo tempo. 18-14 per Cesena rimane così il punteggio perché Varaskin sbaglia il secondo. Il rimbalzo è di Massimiliano Ferraro che ci depalla ad Emanuele Trapani che avanza davanti alla marcatura di Tassinari lungo l'auto di destra. Accentra poi il passaggio per Andrea Raschi Daniello quindi Michael Sacchettini spalla canestro apre il gioco per Ferraro che sbaglia da tre punti. Si stanno abbassando le percentuali dall'arco per Cesena. Bisogna trovare soluzioni alternative dentro il pitturato. Tassinari si arriva in punta circola sempre abbastanza velocemente Fulvio la palla per Orzinuovi prova Mirko Turell da casa sua non prende nemmeno l'afferro piovono i fischi del Carisport e c'è la rimessa per la Amadori con il doppio cambio in casa Cesena De Fabritis in campo in campo anche Papa al posto rispettivamente di Daniello e Massimiliano Ferraro si riprenderà con la rimessa per Cesena dal lato corto in zona difensiva la rimessa fidata da Andrea Raschi che cerca e trova Emanuele Trapani che avanza lungo l'auto di sinistra chiamando lo schema davanti alla marcatura di Tassinari supera ora la linea di metà campo fa il movimento Antonio De Fabritis anzi pardon si Antonio De Fabritis Raschi intanto con la palla dall'altra parte del campo Raschi scade il tempo Andrea Raschi tiro estemporaneo Cesena si sta spegnendo in attacco attenzione si c'è la difesa un bellissimo segnale per la formazione di coach di Lorenzo prova intanto a inventarsi qualcosa a Tassinari ma deve aprire fuori era pronto a ricevere Varaskin entrato in campo intanto Timperi lui con la palla in mano ed il fallo che viene sanzionato a Andrea Raschi con la rimessa che viene quindi assegnata ad Orzi Nuovi 7.55 nel termine del secondo quarto 18 a 14 momento un po' di stanca in fase offensiva da una parte e dall'altra no c'è Salieri che ha allungato la difesa nell'intento di togliere secondi e lucidità quindi anche all'attacco di Cesena da tre punti un grandissimo canestro di Andrea Tassinari 18 a 17 meno uno per Orzi Nuovi con la palla che viene gestita ora da Emanuele Trappini attenzione si è fatto male ha subito un colpo Francesco Pappa che ha qualcosa da dire anche al suo diretto avversario Timperi se non abbiamo visto male un colpo al basso ventre forse alla bocca dello stomaco dolorosissimo non dovrebbe essere ovviamente nulla di che forse il colpo subito da Baralskin si scaldano gli animi intanto anche sugli spalti no quello io non ho visto l'azione in questo stavo seguendo qua altre cose ma continua a rimanere a terra Francesco Pappa quello maggiormente indiziato dovere colpito Pappa sembra Turell visto da come si comportavano i giocatori in campo della Amadori Cesena mentre sul cubo dei cambi sembra pronto a fare il suo ingresso in campo David Berchitz ovviamente dovrà uscire Francesco Pappa che rimane ancora a terra e viene alzato ora da massazzatore Mario Ktoschi e dal medico nonché presidente Gian Piero Valzimigli ha lo sguardo cattivo però Francesco Pappa sono brutto nuovo allora per orti nuovi se Francesco Pappa ha lo sguardo di Tigre si provvede ad asciugare il parquet del Carisport 7.32 il termine del primo tempo 18-17 partita che si è fermata per soccorrere Francesco Pappa si riprende ma con Sacchettini dalla media non la tira apre per Antonio Di Fabritis che finta la tripa si butta nel traffico apre per Emanuele Trapani che torna sui suoi passi Trapani Trapani ma non c'è fallo c'è la stoppata il recupero per Orzi Nuovi Tipperi lungo l'alto di sinistra e questo non è fallo dice l'arbitro è ineffabile e allora prova la conclusione Tassinari e se ne è fallo adesso incredibile sembrava onestamente sembrava uno sfondo solare però tant'è l'arbitro non è dello stesso avviso anzi anzi ha redarguito Trapani avvertendolo di non buttarsi la prossima volta minazzandolo di flopping e adesso viene minazzato coach Di Lorenzo di tecnico che se lo prende no tempo time out time out time out per coach Di Lorenzo insorge il pubblico qualche scelta arbitrale oggettivamente discutibile ne prendiamo atto bisogna ovviamente essere più forti anche di questo coach Di Lorenzo ha detto bisogna imparare a giocare da prima della classe e imparare a giocare da prima della classe vuol dire anche fare fare ovviamente tenere in conto anche queste situazioni però oggettivamente ci sono due arbitri che hanno dei metri di giudizio completamente diversi e l'abbiamo visto in questo primo quarto soprattutto nelle ultime battute di questo secondo quarto non può non fischiare uno sfondamento su Trapani come quello visto che anche il giocatore di Ordinuovi si è fatto largo col braccio e poi andarmi a fischiare un fallo sotto su Berkic a quella maniera un dato tecnico però importante in questo questi primi 13 minuti di match i Tigers hanno hanno prodotto tantissimo dall'arco stanno facendo fatica a produrre in penetrazione sotto canestro si riprende intanto a giocare con Tassinari che rimette per Turell l'end off ancora per il playmaker da casa sua la bomba dal numero zero di Ordinuovi vantaggio Oagribertocchi a 6,58 dalla fine del primo tempo 18 a 20 e ora Raschi per De Fabriz si arriva sotto da David Berkic non è buono il canestro è valido il canestro non è buono non è buono il canestro ci saranno due tiri liberi per David Berkic in virtù del no no neanche tiri liberi nemmeno tiro libero rimessa ce l'avamo fatti ingannare dalla chiamata dello speaker Andrea Raschi rimessa per Michael Sacchettini l'end off per Matteo Battisti si sposta subito Raschi che fa il movimento davanti al filmmaker lui riceve le palla il blocco di Sacchettini il gioco a due pick and roll che non si chiude prende la linea di fondo in frazione di doppio palleggio e allora ennesima recuperata per l'Agribertocchi che la sta svoltando soprattutto in difesa 18 a 20 per Agribertocchi 6,36 al termine del primo tempo la svolta a 6,58 con la bomba di Tassinari oltre tre minuti che Cesena lo segna ancora Tassinari finta la tripla poi scambia palla con Galmarini che non va a segno ma c'è il fallo di Michael Sacchettini con Costi di Lorenzo che chiama a passi attenzione perché l'arbitro lo guarda in Cagnesco primo fallo personale per Michael Sacchettini e l'arbitro dice a Costi di Lorenzo di stare calmo primo richiamo ufficiale per Costi di Lorenzo che ha intenzione tutta l'intenzione di prendersi un pallo tecnico tiri liberi per Galmarini che ha retto Orzinuovi nel primo quarto scomparso un po' nel secondo ma adesso vediamo cosa riuscirà a produrre intanto un tiro libero importante che porta Orzinuovi a più tre quando siamo a 6 di sotto dal termine del primo tempo 2 su 2 per il numero 12 in maglia blu fascisti Galmarini un giocatore molto verticale e l'ha fatto vedere soprattutto nel primo quarto per chi riceve offre il post basso a Michael Sacchettini intercetto con Timperi che può arrivare a schiazzare Marco Timperi 24 a 18 massimo vantaggio più 6 per Orzinuovi Barzellone in questo secondo in questa prima parte di secondo quarto 11 a 0 11 a 0 per Orzinuovi nel nel secondo quarto ancora Cesena la recupera Orzinuovi anzi no riesce a prenderla ancora Cesena ma sta ringhiando come non mai Orzinuovi in difesa Matteo Battisti a sinistra per Antonio De Fabritis bisogna trovare punti bisogna tornare a segnare Andrea Raschi spalle all'avversario si alza Andrea Raschi il professore prende il ferro il rimbalzo di Michael Sacchettini che può aprire per Matteo Battisti che può ragionare con 11 secondi sul cronometro dei 24 a sinistra per Antonio De Fabritis chiede palla David Berkic forse un fallo su di lui Berkic si deve girare lavora col gomito Michael Sacchettini sbaglia il tap out premia Orzinuovi che può distendersi in contropiede lo fa con Tassinari che cede palla e arrivano altri due punti ancora una volta di Marco Timperi 4 punti di fila 2 schiazzate Ringa Orzinuovi sul campo del Carisport 18-26 più 8 per Orzinuovi inevitabile il time out di Coach di Lorenzo c'è anche Donnello De Fabritis Papa e David Berkic De Battisti che pompa il palleggio lungo l'autodestra va a servire Antonio De Fabritis che torna e si arriva in mezzo all'urlo Cesena Cesena David Berkic prova a metterci il fisico Matteo Battisti la bomba del playmaker romagnolo 21-26 ha rotto il digiuno era importante rompere questo lungo digiuno rotto il break di 13-0 ma attenzione ora Dorsi Nuovi che ha preso fiducia come Timperi senza paura sbaglia però la trip il rimbalzo lungo di Matteo Battisti ringia anche il Caris porti insieme i Tigers sul campo dell'impianto Cesenate buono l'assist per Francesco Papa che sbaglia però il rimbalzo altissimo è di Varaskin e allora può distendersi Timperi eh perdon Tassinari gli tocca palla Antonio De Fabritis la rimessa sotto la nostra postazione era tutta per Cesena ma va bene così la rimessa viene affidata alle mani di Tassinari il numero 0 con la maglia blu 4-0 al termine del primo tempo 21-26 avanti Orzi Nuovi che muove palla ora con Mirko Turell su di lui Antonio De Fabritis Tassinari da 3 punti la bomba di Tassinari 21-29 nuovamente più vuoto per Orzi Nuovi la bomba con le mani in faccia 3-45 al termine termine seguiamo l'attacco dei Tigers Battisti cerca la penetrazione chiude bene la trova Battisti ancora lui a giocare su piede perno guarda fuori Mirko Turell col palleggio Mancino finta la tripla si incarta poi riesce a servire in angolo ma Galmarini che sbaglia il rimbasta di Francesco Papa bisogna ragionare 21-29 più 8 per Agribertocchi Orzi Nuovi Daniello ora si accentra col palleggio Mancino il raddoppio lascia libero David Berchis che riceve palla ma è lontanissimo da canestro prova a lavorare con il fisico raddoppiato il capitano ed il fallo di Galmarini se non sbaglio attenzione non dovrebbe essere una bellissima notizia per Concio Salieri no il fallo è del numero 8 Lorenzo Varaskin e si tratta del secondo fallo personale per Varaskin cambia intanto Tassinani in panchina al suo punto in campo con il numero 15 Tommaso Bianchi 4 falli di squadra sia per Orzi Nuovi che per Cesena David Berchis a manovrare 12 secondi per la conclusione pensa alla tripla Antonio De Fabritis che poi se le palla Matteo Battisti ancora Antonio De Fabritis questa volta la scocca Antonio De Fabritis sbaglia il rimbazzo in qualche modo viene catturato dall'entrato Tommaso Bianchi che se le palla Timperi Bianchi Bianchi per il numero 8 Varaskin quindi Galmarini ancora fuori Tommaso Bianchi davanti alla marcatura di Antonio De Fabritis a destra per Mirko Turell che scivola riesce a governare la palla ma gli viene scippata da Francesco Papa e allora Matteo Battisti che può poppare dall'altra parte del campo e scarico per la bomba che non arriva il rimbazzo lungo è solo toccato da Tommaso Bianchi la tiene in campo mantiene il possesso la Amadori Tiger Cesena avrà 14 secondi per arrivare alla conclusione Giacomo Siberna pronto ad entrare nel campo al posto di Mirko Turell 21-29 più 8 Agri Bertocchi risultato cristallizzato così da meno 3 e 45 secondi ne mancano 2-0-4 praticamente ancora un minuto che non si segna nel segno della difesa di Orzi Nuovi questo secondo bellissimo la zona la zona la zona fronte e pari vediamo come la gestisce ottimamente meno male l'assist di Francesco Papa per David Berkic sotto canestro 23-29 meno 6 per Cesena che si deve difendere ora dall'attacco difesa dura Manovrato Dattimperi che si alza e tira senza paura sbaglia grande Papa il rimbalzo di Francesco Papa Cesena Cesena ancora il Caris Porta che è ringhie che supporta Matteo Battisti che perla scarico per Daniello la bomba che non arriva il rimbalzo è comodissimo per Lorenzo Varaskin Matteo Battisti può solo sporcare la palla ma il possesso è nelle mani della formazione ospite che guida nel punteggio 23-29 più 6 1-25 al termine del primo tempo un bellissimo primo tempo intensissimo Fulvio come tra l'altro ci dovevamo ci si attendeva Galmarini per Timperi mette sul palleggio il raddoppio la recupera Daniello ancora un'ottima difesa Francesco Papa Battisti cambia lato per David Berkic il capitano mamma mia il capitano e solo 3 Tigers è la terza bomba questa di David Berkic in questa partita se ricordo bene un David Berkic sino a questo momento assieme a Papa determinati nell'economia della partita per i Tigers che sono rientrati da un brutto parziale erano a meno 10 meno 10 meno 11 poco fa ora sono solo a meno 3 e rientriamo sul campo del Carisport con Cesena che ha controbreccato sta controbreccando gli avversari che erano avanti di 8 21 a 29 un minuto alla fine del primo tempo è Tommaso Bianchi a gestire palla si fa vedere riceveva e quindi con il 5 siberna fuori ancora per Tommaso Bianchi Tigers Tigers urla il Carisport buono l'appoggio a canestro ma non c'è la precisione il recupero però di orzi nuovi con 43 secondi e un'opportunità di tiro in più con Tommaso Bianchi che libera dall'arco il tentativo da 3 punti che non arriva ma ancora il rimbalzo è ottimamente catturato da Tommaso Bianchi che può impostare per la formazione di Costalieri Palleso da dietro la schiena poi attenzione ai falli sotto ancora per Bianchi gioco spalle a canestro pronto per il raddoppio David Berkic il tiro va a segno con Bianchi che ringhia davanti al pubblico dice Sena gran canestro meno 5 Tigers ultimi 12 secondi se li vuole giocare tutti con razziocinio Matteo Battisti gran canestro l'ultimo di Bianchi il pick and pop con Berkic che va a subire fallo a 2 secondi e 7 decimi dal termine del secondo quarto e del primo fallo secondo fallo personale per Galmarini e ottimi due tiri liberi conquistati da David Berkic determinante fermo lascerà poi solamente due secondi e 7 decimi agli avversari però è corto il primo tentativo del capitano romagnolo David Berkic che ora deve portare la Amadori Tigers Cesena sul 27 a 31 verso il meno 4 dopo l'ottimo secondo quarto di Orzinuovi buono con tanta fortuna e ora vediamo la rimessa per Bianchi che tira da casa suola freghiera che non va al segno termina 27 a 31 con il vantaggio di Orzinuovi questo bellissimo primo tempo un primo tempo in cui si sono partiti un quarto a testa le due formazioni nel primo quarto a segnare la differenza tra le due formazioni il tiro da 3 punti di Cesena nel secondo la super difesa messa in campo da coach Salieri per Orzinuovi 27 a 31 noi ci risentiamo fra poco con la lettura delle statistiche si diciamo che Cesena nel secondo nel secondo quarto si è lasciata in rettire dalla difesa confusionaria caotica di Dalcauska generata in campo la formazione dell'Agri Bertocchi Orzinuovi sotto l'assist di Sacchettini per Rassi che però sbaglia l'appoggio a canestro e allora la possibilità per Bianchi di gestire palla con la palla che viene gestita ora da Peroni che prova a trovare il pertuzio deve tornare fuori il servizio sotto per Galmarini l'apertura rapida lungo l'arco di 6.75 l'appoggio di Tabella abbastanza fortunoso per Varaskin i primi due punti di questo di questo terzo quarto sono Diorzi Nuovi avanti 27 a 33 Sacchettini sotto per Rassi gioco alto basso ancora Michael Sacchettini che non trova la misura del canestro si può ribaltare la fase offensiva con Orzi Nuovi che con un pizzico di fortuna riesce a mantenere il possesso ancora Varaskin in punta per Galmarini a destra per Peroni quindi in punta per Tommaso Bianchi su di lui Daniello si arriva allora ancora da Peroni il blocco di Galmarini Peroni prova a giocare sul blocco il picchino roll che si chiude con il buon canestro di Galmarini 4 a 0 il navio di terzo quarto 27 a 35 nuovamente massimo vantaggio a Grebertocchi più 8 Matteo Battisti si stirpalla e cederà ad Andrea Daniello il consegnato per Andrea Raschi Raschi in qualche modo riesce a servire Michael Sacchettini che si gira lo scarico fuori allora si apre il gioco per Battisti che sul primo passo va a subire il fallo della difesa ospite segnatamente il numero 15 Tommaso Bianchi primo fallo personale per Tommaso Bianchi primo fallo anche di squadra per Orzi Nuovi 8.28 al termine del terzo quarto 27 a 35 i Tigers devono ritornare a segnare quanto prima Matteo Battisti a servire palla per Andrea Raschi sulle tacche il professore si gira tira sbaglia ma c'è il fallo della difesa dovrebbe essere assegnata nel numero 5 così è l'assegnazione arbitrale secondo fallo personale per Giacomo Siberna secondo fallo di squadra per Orzi Nuovi lunetta per il professore sarà importante adesso seguire anche soprattutto non seguire ma sarà importante determinante secondo me la prova difensiva di Daniello in questo terzo quarto Daniello che deve dare qualcosa di più alla difesa di coach di Lorenzo poi la precisione anche in attacco 2 su 2 del professor Raschi dalla lunetta 29-35 meno 6 per Cesena Battisti ringhe sul portatore di palla ovvero Tommaso Bianchi che cede palla Peroni che gliela ritorna 1-3-1 mi sembra 1-3-1 la difesa di Cesena Dan Peterson in punta Matteo Battisti vediamo ora Bianchi alle prese con Michael Sacchettini buona la difesa di Cesena che non riesce ad essere bucata dall'attacco di Orzino e lo recupera Francesco Papa ottima la 1-3-1 messa in campo da coach di Lorenzo Matteo Battisti palleggio si ferma c'è spazio fa saltare l'avversario cede palla a Papa che in qualche modo riesce a cederla ad Andrea Raschi 10 secondi per la conclusione di Cesena Papa spalla Canestro ribalta al lato per Daniello che non può prendersi la tripola ora si prende il pitturato e il tiro ottima iniziativa ottima iniziativa buona la costruzione in attacco per Cesena dopo una buona difesa due tiri liberi per Andrea Daniello terzo fallo di Siberna non una buonissima notizia per coach Salieri quando siamo a 7.37 dal termine del terzo quarto 29.35 tre falli di squadra per Orzinovi cambio fuori Giacomo Siberna dentro Mirko Turel Daniello in lunetta per due tiri liberi 7.37 al termine del terzo quarto 29.35 30.35 perché è buono il primo tiro libero di Andrea Daniello Papa già pronto a schierarsi in difesa abbiamo rivisto perdonami Frambo la mitica 1-3-1 la zona di Dan Peterson con Meneghin Premier Bob McAdoo D'Antoni e Riccardo Pitti ancora 1-3-1 per la formazione di coach di Lorenzo Daniello Ringhiari oltre l'arco del 6.75 non ci sono sbocchi si prova a arrivare da Galmarini ma è buona la difesa di Michael Sacchettini 7 secondi per la conclusione l'assist con la palla che arriva sotto bisogna andare fuori Galmarini sbaglia in rimbalza di Michael Sacchettini no no in rimbalza di Papa ancora lui seconda palla recuperata con la 1-3-1 di coach di Lorenzo schema corna il blocco in alto si arriva da Francesco Papa a sinistra per Andrea Raschi non c'è fallo secondo l'arbitro Raschi con il palleggio del blocco di Michael Sacchettini è falloso giusta la segnalazione arbitrale dovrebbe essere il secondo fallo personale di Michael Sacchettini così è primo fallo di squadra per Cesena in questo secondo tempo tra il Turo 1-35-4 per Cesena la palla viene gestita però da Orzinuovi con Peroni che cede palla a Bianchi quindi Turel dall'altra parte con Galmarini ancora Turel dall'altra parte ancora la 1-3-1 di coach di Lorenzo il blocco di Galmarini non si chiude il pick and roll perché ci mette il piedone Michael Sacchettini che regala ancora 14 secondi all'attacco di Orzinuovi che sta facendo fatica come non mai davanti alla zona 1-3-1 ordinata da coach di Lorenzo era una vita che non vedevo la zona 1-3-1 in questi campionati ma anche in A2 ci manca la box in one esatto ma l'hai tolto letteralmente Turel dalla rimessa di Tommaso Bianchi che riceve palla anzi no riceve ora Tommaso Bianchi da Lorenzo Varaskin si prova con la tripla che non arriva e la rimbalza è di Matteo Battisti anzi no anzi sì è nostra perché l'ultimo a toccare è Varaskin la rimessa per Cesena terza palla recuperata consecutiva in difesa ora però Pulvio bisogna monetizzare dall'altra parte del campo adesso bisogna trovare delle buone finalmente lasciatemelo dire sentite l'incitamento del pubblico Sacchettini il consegnato per Andrea Raschi che prova a mettere il turbo Andrea Raschi si infrange contro la difesa la palla è di Cesena l'ultimo a toccare è Mirko Turel Raschi si gira verso l'arbitro e dice ma come ma questo non era fallo l'arbitro gli dice assolutamente no ma c'è la rimessa per Cesena 14 secondi sul cronometro del 24 braccia aperte e sconsolate per coach di Lorenzo in panchina davanti all'ennesimo non fischia arbitrale Raschi è libero Andrea il professore 34-35 meno 1 per Cesena 5-59 è cambiata la difesa è cambiata la difesa c'è il fallo ora di Daniello molto aggressivo su Turel primo fallo comunque per lui ancora 14 secondi per l'attacco di Lagri Bertocchi Orzinuovi vediamo la difesa no no sempre 1-3-1 1-3-1 non è cambiato niente vada fuori Orzinuovi e questa volta Turel dall'arco del 6-75 sono i primi tre punti nella partita di Mirko Turel Turel che ha un cognome un nome famoso un nome importante ancora la difesa di Orzinuovi e rubare andare in contropiede sempre Turel parziale di 4-0 per la formazione Lombarda che riporta Lagri Bertocchi a più 6 al Carisport qui a Cesena seguiamo l'attacco ora di Cesena Matteo Battisti a prendere il blocco di Papa ancora Battisti a pompare la palla Daniello Daniello prova a prendersi la linea di fondo poi l'assist ben Francesco Papa ma non c'è pallo 36-40 Bianchi ora per Orzinuovi scambia palla con Turel continua la zona per Cesena Papa ora su Turel che prende il ferro e il rimbazzo di Michael Sacchettini comodo comodo Matteo Battisti deve giocare davanti alla difesa schierata di Orzinuovi c'è de palla in angolo per Andrea Raschi il professore si fa scippare palla e ancora il contropiede con Mirko Turel che prova l'appozzo questa volta lo trova 36-42 settimo punto di Turel in questo terzo quarto Matteo Battisti a pompare il palleggio si sposta sulla fascia destra per andare poi a servire Andrea Raschi in angolo per Daniello è libero Andrea Daniello sbaglia la bomba prova a lottare a rimbazzo Michael Sacchettini che fa carambolare la palla sulla mano dell'avversario anzi no la rimessa è per Orzinuovi 36-42 più 6 per la formazione ospite cambio per Cesena Berkic in campo al Berkic anche De Fabritis Berkic e De Fabritis e anche Trapani ridisegna completamente il quintetto coach di Lorenzo in campo Daniello Papa Berkic Trapani e Antonio De Fabritis Scheringhia ora davanti a Tommaso Bianchi si arriva da Turelle in punta Calmarini quindi Pipitone gravato di tre falli lo ricordiamo quindi ancora sulla destra per il capitano il numero 4 Peroni ora Tommaso Bianchi il blocco di Pipitone il pick and roll che si può chiudere con l'appoggio di Pipitone sbavatura difensiva per i Tigers 36-44 nuovamente a più 8 il massimo vantaggio per Orzinuovi Emanuele Trapani a gestire ora e c'è il fallo in attacco di Antonio De Fabritis devono rimanere incollati al Messi i ragazzi di coach di Lorenzo 3-33 di fatto in questo terzo quarto l'intensità di Orzinuovi non è cambiata aveva provato coach di Lorenzo con la zona 1-3-1 recuperato diversi palloni poi però non è riuscita a trovare fatturato dall'altra parte del campo se non con una tripla di Raschi e con un 2-2 sempre del professore della linea della carità ma è ora Orzinuovi viene conteso e alla fine viene vinto da Francesco Papa che si deparla da Antonio De Fabritis lui in cabina di regia chiamano Schemacorna si prende il blocco sulla destra quello di Papa si apre in punta Berkis che riceve poi palla da Trapani Berkis spalla e canestro l'assist col passaggio dietro la schiena splendido l'assist del capitano per Francesco Papa da Highlights questo assist di David Berkis tutta l'azione tutta l'azione da Highlights Pipitone lontanissimo dall'arco attenzione Peroni Peroni ferma il palleccio non sa chi servire prova a ringhiare David Berkis su Pipitone poi è buona la penetrazione buono l'assist per Gelmerini che va a trovare altri due punti fa acqua la difesa della Amadori Tiger Cesena 38 a 46 ancora più 8 per la formazione ospite insiste sul massimo vantaggio la formazione di coach Salieri quando siamo a 2.16 dalla fine di un terzo quarto complicatissimo per la formazione di casa c'è l'intercetto di Pipitone ma c'è il possesso ancora per Cesena che ha 9 secondi per arrivare alla conclusione cambia per coach Salieri in panchina Galmarini dentro con il numero 8 Varaskin altro cambio Tommaso Bianchi lo chiama lui al suo posto Tassinari con il numero 0 per la Agri Bertocchi Ors di Nuovi 2.11 al termine di questo terzo quarto meno 8 per Cesena che deve tornare assolutamente a segnare con continuità in questo terzo quarto Daniello vuolo l'assist per Francesco Papa che va a perder ma c'è il fallo ma c'è il fallo attenzione perché di Pipitone quarto fallo del numero 19 in maglia blu cambio allora ritorna subito in campo Galmarini con il numero 12 sia al posto di Pipitone ma soprattutto due tiri liberi per Francesco Papa singolare anche l'ha fischiata il fallo è stato visto dall'arbitro che non era sottocanato di che è tutto dire il fallo c'era non fraintendetemi buono il primo tiro libero del numero 7 Cesena 39-46 meno 7 chiama la difesa ancora zona la panchina di Cesena ora Cesena deve trovare una buona fluidità in attacco 2 su 2 per Francesco Papa richiamata nuovamente la zona ed è ancora la è una 2-3 questa volta fronte e pari la zona di coach di Lorenzo che prova a presidiare l'area creato problematiche all'attacco di Orzi Nuovi Peroni prova a gettarsi nel traffico alla fine la rimessa è sempre per Orzi Nuovi che ha però solamente 6 secondi sul cronometro dei 24 per giungere la conclusione 1 minuto e 51 secondi al termine del terzo quarto 40-46 avanti di 6 la formazione ospite che prova ora la bomba è cortissima a rimbasso primezza subito Antonio De Fabritis che la conquista Papa possedere palla di Emanuele Trapani davanti a lui Peroni scontro Antonio De Fabritis a destra per Andrea Daniello quindi ancora a destra per Emanuele Trapani siamo al gioco spalla canestro di David Berchitz raddoppiato Berchitz in frazione di passi del capitano sul raddoppio della difesa di Orzi Nuovi giusta a mio avviso la chiamata arbitrale 40-46 allora rimane così il risultato con 6 punti di vantaggio per la formazione di Corsi Salieri ma è andato avanti il cronometro non particolarmente amico in questo frangente per i Tigers che devono recuperare 1.20 da giocare in questo terzo quarto va la schiena destra per Tassinari sotto per Galmarini su di lui Ringhia Ringhia il capitano ma Galmarini trova il Grimaldello va a depositare nuovamente il più 8 per Orzi Nuovi 40-48 all'e basso lo schema chiamato da Emanuele Trapani che si accentra in appunto davanti alla marcatura di Peroni a destra per David Berkic la bomba scusate per Francesco Papa il rimbazzo di Berkic non arrivano i due punti Papa sbaglia la terza opportunità di tiro consecutiva e arriva il fallo tecnico per David Berkic che si è lamentato per qualche fallo non fischiato per Berkic si tratta del secondo fallo personale 46 secondi e 16 decimi al termine del terzo quarto 40-48 più 8 per Orzi Nuovi si scade il pubblico qui al Carisport con il tiro libero di Mirko Turel che lo tira ma lo sbaglia esuta il Carisport e c'è la rimessa per Orzi Nuovi contestazione applausi polemici per l'arbitro che avete ora inquadrato singolare comunque le sue interpretazioni ci stanno per l'amor di Dio Tassinari davanti alla marcatura di Antonio De Fabriti il blocco di Galmarini non c'è sia il passaggio o per poco non la recupera Francesco Papa ma attenzione perché siamo sguarniti in difesa ottimo il tap-in di Galmarini anche se il calestro secondo me è di Peroni 40-50 più 10 massimo vantaggio a 28 secondi dal termine del match più 10 per Orzi Nuovi ma è in avanti Cesena Papa sotto per David Berkic che non trova il calestro ma trova finalmente un fallo fischiato alla difesa di Orzi Nuovi David Berkic deve stare attento perché ha già preso un fallo tecnico attenzione ha la faccia cattiva David Berkic ma questa faccia cattiva giustamente ha ragione deve anche unire il raziocinio col secondo fallo tecnico si va fuori tiri liberi per David Berkic sta dicendo mi ha colpito anche sul braccio in precedenza l'arbitro viene al tavolo viene sistemato il cronometro problemi con il cronometro di 24 secondi quando siamo a 15 secondi dalla fine del terzo quarto David Berkic David Berkic in lunetta per due tiri liberi importantissimi sbaglia il primo sbaglia il primo il capitano 15 secondi precisi al termine del terzo quarto perdone 1 su 2 per il 41 a 50 sotto di 9 guarda il cronometro Tassinari davanti alla marcatura di De Fabritis poi prova ad accelerare 5 e 4 3 secondi la bomba di Varaskin che va a segno la bomba di Varaskin sul sirena di fine terzo quarto che fissa il putteggio sul 41 a 53 massimo vantaggio Orzi nuovi e c'è il pubblico del cari sport che applaude le tigri di coach di Lorenzo pronte a scendere in campo con Emanuele Trapani Antonio De Fabritis Andrea Daniello Francesco Pappa e David Berkic risponde Orzi nuovi con Galmarini Varaskin Timperi Tassinari e Mirko Turel Tassinari a chiamare lo schema a pugno davanti alla marcatura di Emanuele Trapani vuole il fallo la panchina di Orzi nuovi il fallo arriva adesso per Francesco Pappa in marcatura su Varaskin trattaci del secondo fallo personale per Francesco Pappa rimessa Orzi nuovi con 16 secondi sul cronometro del 24 se ne occupa Tassinari davanti a Emanuele Trapani e prova ad oscurargli la linea di passaggio nell'angolo Mirko Turel riesce ad uscire ma continua a ringhiare su di lui Andrea Daniello si arriva al calpestato la linea Tassinari ha calpestato la linea e allora recupero di Cesena grazie alla difesa che ha ringhiato fin dal bio di questo ultimo quarto 9.43 sul cronometro Emanuele Trapani palla in mano si sposta sulla sinistra concentrandosi servendo in punto Andrea Daniello davanti a lui prova a ringhiare Mirko Turel ferma il palleggio e si arriva ora da Antonio De Fabritis chiama palla e la riceve il capitano sulle tacche David Berkis su Timperi David Berkis sbaglia il rimbalzo di Orzi nuovi che può uscire palla in mano con Tassinari lungo l'out di sinistra prova ad accelerare il fallo questa volta è di Emanuele Trapani per il numero 4 in maglia cesenate si tratta del secondo fallo personale secondo fallo anche di squadra per Cesena 41.53 ancora meno 12 per la Amadori Tigers Cesena 9 minuti e 13 c'è tutto il tempo per recuperare però bisogna cercare di rimettersi in carezzata immediatamente la recuperata di Francesco Papa che per poco non riesce a prodursi in contropiede buoni segnali però per la formazione di Consiglio Lorenzo che per riprendersi è sempre ricorsa fin dall'inizio di questo campionato in ottime azioni difensive quindi vediamo che chissà che non sia il caso anche questa sera Tassinari per Galmarina ancora Tassinari si due lui Emanuele Trapani lo è blocco per il tentativo da 3 punti che non c'è il rimbalzo lungo premia in qualche modo Francesco Papa che però non riesce a mantenere la maniglia prima che la palla esca dalla linea di fondo e allora rimessa per Orzi Nuovi 14 secondi per l'attacco Lombardo ancora Tassinari alla rimessa Cesena che difende a uomo Orzi Nuovi è riuscito a mantenere spazio attenzione Daniello non riesce a recuperare palla ma c'è il fallo di Mirko Turell che poi ringhia sull'arbitro recuperata per Cesena che non ha lasciato linee di passaggio dalla rimessa Altra palla importante Trapani lungo l'auto di destra per Andrea Daniello in punta a sinistra per Antonio De Fabritis di lui Timperi Berkic in punta per Andrea Daniello Berkic finta la tripla poi si butta non c'è fallo meno male fischiamolo dopo due giorni il fallo di Galmarini terzo fallo personale per il numero 12 in maglia blu 841 al termine della match ancora più 12 però per Orzinuovi si l'abbiamo detto Orzinuovi che poc'anzi è riuscito a mantenere il possesso di due palloni nonostante Papa avete visto come sono brutti segnali questi a mio avviso Trapani per Antonio De Fabritis raddoppiato si scambiano le marcature si arriva a sinistra da Francesco Papa Berkic il caccio è sciuto da Tempucci David Nema problema Berkic 44 53 sotto di 9 la formazione di Coccia di Lorenzo che deve continuare a premere in difesa e lo fa ora con Emanuele Trappani il blocco di Galmarini non c'è fallo e allora si arriva dall'altra parte con Mirko Turell sulla sinistra davanti alla marcatura di Andrea Daniello perde la maniglia poi la recupera poi si avvicina Mirko Turell il recupero di Andrea Daniello che lo sta facendo tirare più Orzinuovi il no look per Papa che apre per Berkic fitta la tripla si vuole prendere il fallo lo scarico per Francesco e che it will go in chiado la biva nel numero 7 Cesanate 46 53 meno 7 per i Tigers che la stanno svoltando con la difesa e stanno trovando nuovamente continuità in attacco time out inevitabile per Costalieri Stanno tra i Tigers con Trapani, Daniello, Pappa, De Fabritis e Berchic a giocarsi questi ultimi 7 minuti e 52 secondi qui al Carisport di Cesena contro l'Agli Bertocchio di nuovo in campo con Galmarini, numero 12 Galmarini scusate, numero 15 Tommaso Bianchi con il numero 8 Varaskin con il numero 0 Andrea Tassinari con il numero 23 Marco Timperi Tassinari, anzi Bianchi a gestire palla davanti ad Andrea Daniello, gli chiude la strada il numero 3 Cesenate Chiama passi, coach Di Lorenzo, non è dello stesso avviso l'arbitro, Tassinari con il numero 0, il blocco di Galmarini e c'è il fallo in attacco e c'è l'ennesima recuperata per la formazione di coach Di Lorenzo Il fallo in attacco di Galmarini, attenzione, terzo fallo, terzo fallo di Galmarini, 46-53, 16 punti intanto di David Berchic in doppia cifra, anche Francesco Pappa con 11 Ma è Trapani, Cesena, Cesena, sentite il tifo della Carisport, Antonio De Fabritis fin dalla tripla, lavora il palleggio, 12 secondi, si può ragionare il blocco di Pappa, può arrivare fino in fondo Mamma mia! De Fabritis, 48-53 Meno 5, da meno 13 a meno 5, difesa importantissima, darono riguare i Tigers senza fallo Bianchi per Tassinari, 48-53, meno 5 per i Tigers a Cesena, Galmarini spalla a canestro, fuori per Tipperi, può provare la bomba Non c'è, il ribazzo di Pappa, preziosissimo, sulla destra, può correre E Mauroele Trapani che si ferma e ragiona Trapani col palleggio Mancino, chiama lo schema a pugno, il blocco di David Berchic in punta C'è spazio, la stoppata su Trapani e di Galmarini Dall'altra parte Tipperi può arrivare fino in fondo, arrivano due punti per Tipperi e per Orzinuovi, 48-55, meno 7 per Cesena Chiatra, la nerve giusta, mancano 6 minuti e 24 secondi in tutto il tempo del mondo Emanuele Trapani per David Berchic Antonio De Fabritis, Berchic, su di lui Galmarini Berchic, uno contro uno, la stoppata di Galmarini che va a ringhiare sull'arbitro, dagli tecnico Calma, calma 48-55 48-55 E' salito Battisti per Emanuele Trapani La rimessa in gioco comunque ancora per Cesena e solo 4 secondi per andare al tiro Ieri ero confuso, avevo visto il tecnico, non c'è stato, la rimessa comunque per Daniello, altra stoppata per Orzinuovi Con la palla che viene fatta soggiamente carambolare sulla testa di Andrea Daniello E c'è la rimessa per Orzinuovi, clima da playoff Fulvio qui al Caris Guardi, 48-55, sotto di 7, l'amador di Tiger Cesena, 6-05 al termine Cornalato, lo schema chiamato da Bianchi Che supera ora la linea di metà campo davanti alla marcatura di Andrea Daniello Per andare sulla sinistra a servire poi Timperi in punta Timperi, su di lui Antonio De Farirtis, il blocco E allora, la bomba che non arriva, con la palla che viene solo, sporcata Tigers, Tigers Orzinuovi, la rimessa per Cesena 5-48, 48-55 Concesso di fatto appena un paio di tiri alla formazione ospite La formazione ospite, l'Agri Bertocchi sta cercando di uccidere la partita In difesa, assolutamente Papa, non ha niente da perdere Per Fabritis E Antonio De Fabritis, sbaglia il rimbalzo lungo In qualche modo viene sporcato solamente da Francesco Papa, la rimessa ancora per Orzinuovi 5-34 al termine, 48-55 Meno 7 per Cesena Bianchi, ora di impostare l'azione offensiva per Agri Bertocchi Orzinuovi, l'accelerazione di Bianchi L'appoggio di Bianchi a canestro Ottimo il canestro di Tommaso Bianchi Time out per coach di Lorenzo Con un indiperito Andrea Daniello Vediamo ora Schierarsi Cesena ancora Con Papa De Fabritis, Berkic, Battisti E Daniello Risponde Orzinuovi a 5-25 Colne, Baraschini, Timperi Galmarin, Tastinari E Bianchi Battisti scortato da Andrea Daniello dall'altra parte del campo E lui a ricevere palla ora Prova a farsi vedere Antonio De Fabritis Papa a destra per Matteo Battisti Il blocco di Berkic Pick and Pop David Berkic 5-1 a 57 Meno 6 Tigers Lui e Papa si stanno caricando i Tigers sulle spalle Vediamo la fischiata Su Papa probabilmente la fischiata Il fallo è del numero 7 Cesenate Per Francesco Papa Si tratta del terzo fallo personale Terzo di squadra anche 5 minuti esatti al termine di un match Vero e proprio match da playoff Caro Fulvio Sotto di 6 Cesena Partita intensissima Con Cesena Che cerca di rientrare Massaro Dura Contro questa Agri Bertocchi Così molto fisica Molto dura Salgono i fischi Delle cari Sport Galmarini Dal gomito La va a perdere La recupera Cesena La recupera Cesena Attenzione perché l'ultimo tocco Mi sembrava onestamente Sinceramente Di Cesena Ho visto male allora Rimessa per Cesena 51-57 4-49 al termine Cesena deve monetizzare Queste palle recuperate De Fabritis Deve giocare con calma Il tempo c'è Deve giocare con calma Il consegnato per Battisti Battisti lavora il palleggio Battisti sbaglia Il tap out Favorisce Tassinari Che può far correre Ma calpesta la linea laterale Del campo Timperi Che poi Stizzito Va a provare la schiazzata Che non trova E si infiamma il Carisport 51-57 Meno 6 ancora per i Tigers Che possono tornare a testire Una manovra offensiva Importantissima e fondamentale Nell'economia del match 4-28 al termine 51-57 Daniello Per Matteo Battisti Su di lui Non si possono recuperare 6-7 punti Tutti in una volta De Fabritis Dalla lunetta Serve ancora Il capitano Che sbaglia da 3 punti Il rimbalzo Di Tassinari Che può andare Dall'altra parte Del campo E Orzinuovi Con lo schema L A chiamare il blocco Ialto Di Galmarini Fuori ancora la palla A girare Con i fischi Sullo sfondo Del Carisport Il fallo Di Andrea Daniello Su Tommaso Bianchi Per il numero 3 Aranzo Nero Si tratta del secondo fallo Personale Quarto di squadra Per la formazione Di questo di Lorenzo 51-57 Sotto di 6 A 3-53 Scarsenza Il tempo Fulvio C'è ancora il tempo Solo che bisogna Di soluzioni giuste Bianchi Per Tassinari Tassinari Dalla media Bellissimo Canestro di Tassinari A 3-43 Non stai sbagliando Più niente In attacco Ora Orzinuovi Scegliamo l'attacco Dei Tigers Daniello Pick and roll Con Papa C'è il fallo Su Francesco E' così Che bisogna fare Non ci sono I coccodrilli in area Attacchiamo il ferro Sotto di 8 Cesena Va a pescare Il quarto fallo Di Galmarini E va a pescare La possibilità Di segnare A cronometro fermo Fondamentale Fulvio A 3-28 Dalla fine Del match Sotto di 8 Cambio intanto Ordinato Da Coach Salieri Pronto Pippittone Prenderà Verosimilmente Il posto Di Galmarini Tanta fortuna Tanta fortuna Per il 2-2 Di Papa 13 punti Di Papa 19 Quelli di Berkic Se non sbaglio Pippittone Ha 4 falli 1 contro 1 Su di lui Tutta la vita 53-59 Sotto di 6 Bisogna ringhiare In difesa Recuperare palla E andare a segnare Dall'altra parte Del campo Tassinari Butta giù Il palleggio Tassinari Sbaglia La palla Rimane inchiodata Il possesso Dei Tigers Tabellone La regola Della freccia Premia Cesena 53-59 Sotto di 6 La formazione Di Costi Lorenzo A 3-14 Dalla fine del match Non sprechiamo Questa palla Bisogna attaccare Il pitturato Fulvio Te l'ho detto Non bisogna lasciarsi andare Attiri gli schiteriati Da 3 Il tempo c'è ancora Bisogna giocare Con lucidità Non farsi prendere Dall'orgasmo Della partita E di risolvere Velocemente E di rimontare Velocemente Questo svantaggio Battisti Davanti allo show Difensivo di Pipitone Che poi si accoppia Sotto con David Berkic Berkic sbaglia Buona la difesa Ma arriva Papa Canestro buono E fallo C'è il canestro Dal numero 7 Cesanate E c'è il fallo Sul canestro Di Papa Palla nel pitturato Però Ottima possibilità Per Papa Di chiudere un gioco Da 3 punti Preziosissimo Pipitone a casa Tre Cesena sotto Ma soprattutto Il quinto fallo Di Pipitone Galmarini in campo Con il quinto Col 4 falli Attenzione Problemi Per i lunghi Di coach Salieri 5-5-5-9 Sotto di 4 Sotto di 3 Cesena A 3-0-2 Sotto di 3-0-2 Sotto di Orzinovi Difesa la zona di Cesena pallo fuori per Tassinari c'è il buocco di Galmarini esce Berkic, Galmarini sotto Galmarini fuori attenzione si libera la bomba mamma mia Stivaroskin 56-62 bellissima partita Fulvio partita veramente in clima playoff Matteo Battisti da tre non vai, rimasti di Papa ottimo, preziosissimo preziosissimo, rimasto di Antonio De Fabritis Matteo Battisti può lavorare con nove secondi ancora per la conclusione, Daniello Daniello non c'è fallo, Daniello fino in fondo Andrea Daniello sbaglia Timperi poi in tutta velocità il fallo in attacco è di Papa, giustissimo ha mosso il bacino Francesco Papa due tiri liberi per Orzi Nuovi, 2-0-4 al termine del match il time out è chiesto da coach di Lorenzo 56-62 più 6 per la formazione ospite liberi per Timperi che come una scheggia dopo la palla recuperata da Orzi Nuovi si è proiettato dall'altra parte del campo ad altissima velocità Papa ha provato a prendersi il fallo di sfondamento ha mosso però il bacino e due tiri liberi quindi per Timperi sbaglia il primo il numero 23 in maglia blu attenzione pronti al tagliafuori Papa e Berkic rispettivamente Subaraskin e Galmarini sbaglia anche il secondo il rimbazio di Antonio De Fabritis Battisti supera ora la linea di metà campo un minuto e 59 56-62 sotto di 6 Cesena Berkic finta la tripla Berkic col paleso mancino il consegnato per Antonio De Fabritis il fallo di Timperi che va a commettere fallo su Antonio De Fabritis lunetta lunetta per Antonio De Fabritis ecco uno 1,51 al termine meno 6 due tiri liberi di importanza capitale questi per i Tigers palla pesantissima nelle mani del numero 8 Cesena che si appresta a prendere la mira per il primo tiro libero a sua disposizione sbaglia corto il primo tiro libero di Antonio De Fabritis cominciano a pesare i palloni buono il secondo uno su uno a 1,51 dalla fine del mes 1 su 2 per De Fabritis 57-62 meno 5 si può ancora recuperare Timperi Timperi si alza Timperi splendido canestro per Timperi 8 punti per lui Battisti ora ricevuto dal capitano in punta per Papa non si è più visto Andrea Raschi Fulvio in campo non ho capito perché De Fabritis nemmeno Massimiliano Ferraro Antonio De Fabritis ancora lui a tenere in vita i Tigers 59-64 meno 5 ma il tempo scorre 1,13 bisognerebbe non subire canestro e andare dall'altra parte molto velocemente 9 secondi 9 secondi per la conclusione di Orzi Nuovi Tassinari Tassinari la perde la recupera l'Italia grande pappa a 57 secondi la recuperata David Berkic sbaglia però il rimbalzo ancora di Orzi Nuovi e qui rischia di calare il Sipario sulla prima sconfitta dei Tigers in questo campionato Tassinari bel fallo di Antonio De Fabritis a 40 secondi e 7 decimi con Orzi Nuovi e più 5 Berkic l'ha voluta vincere da solo terzo fallo di De Fabritis va in lunetta con il numero 0 Andrea Tassinari autentico castigatore della difesa Tigers questa sera in questo quarto quarto va il primo tiro libero di Tassinari che riporta la sua formazione a più 6 voglio dire ora 3 possessi con il più 7 e qui 59 a 66 più 7 per Orzi Nuovi a 40 secondi dalla fine del match direi Fulvio ancora presto il miracolo miracolo sempre più complicato festeggiano i tifosi di Orzi Nuovi 59 a 66 7 punti da recuperare in 40 secondi adesso non c'è più tempo per carità non c'è tutto è ancora possibile però insomma comincia ad essere veramente molto poco il tempo a disposizione della Amadori Tigers Cesena continuiamo a sottolineare il fatto che non sono ancora entrati in campo praticamente nel secondo tempo mi sembra Andrea Raschi o comunque in quest'ultimo quarto non hanno ancora giocato Andrea Raschi e Massimiliano Ferraro capiremo al termine del match il motivo sicuramente problemi fisici per i due giocatori cesenati si riprende 40 secondi 20 secondi per trovare un po' Andrea Daniello vediamo Battisti pronto in mezzo ai blocchi e Battisti che fa il blocco per Berkic nel cuore dell'area ma si arriva da Antonio De Fabritis bisogna affrettare un tiro Antonio De Fabritis se lo prende Antonio De Fabritis consegna la bomba di De Fabritis 34 secondi al termine meno 4 tripla di De Fabritis dopo il time out di coach di Lorenzo ecco abbiamo trovato un buon tiro nei primi 10 secondi un tiro che ci può rimettere non ci ha ancora rimesso in vita abbiamo sempre due possessi di ritardo pronti a scendere nuovamente in campo 34 secondi e un decimo sul cronometro del match 6-2 6-6 più 4 per Orzi Nuovi che ha chiesto il time out dopo la bomba di De Fabritis sossigeno puro per Cesena difesa sempre sotto in questo secondo tempo difesa tutto campo per coach di Lorenzo Varaskin alla rimessa fa movimenti sui compagni non trova il passaggio lo trova ora per Galmarin l'intercetto difensivo ruba solo secondi sul cronometro perché la rimessa continua ad essere di Orzi Nuovi ad occuparsi nel numero 8 Varaskin ancora difesa allungata tutto campo per Cesena senza fallo per favore 6-2 6-6 sotto di 4 Cesena sotto di 4 Cesena la recuperata anzi no è ancora rimessa per i Tigers sembra di vedere Fulvio una partita di rugby intanto gli abbiamo messo pressione 31 secondi ne sono passati 3 un secondo di fatto per rimessa a disposizione giocatisi per Orzi Nuovi l'arbitro qualcosa da dire ora sono due uomini su Antonio De Fabritis la rimessa la rimessa in qualche modo arriva a destinazione il fallo di Andrea Daniello su Varaskin per Andrea Daniello si tratta del terzo fallo personale 29 secondi al termine del match 6-2 6-6 Luneta per Varaskin 29 secondi dalla rimessa di Orzi Nuovi il fallo di Daniello Varaskin in Luneta Varaskin sbaglia il primo tiro libero ancora Maraskin palla pesantissima 1 su 2 per Varaskin 6-2 6-7 meno 5 Tigers 26 secondi meno 5 De Fabritis finta la tripla Papa riesce a prendere la maniglia Canestro bene nel fallo incredibile mamma mia cosa ho visto mamma mia Canestro e fallo Canestro e fallo per Francesco Papa il numero 7 porta Cesena sotto di 3 e quinto fallo di Galmarin ormai conta poco importante che finale 21 secondi e 4 decimi 21 secondi e 4 decimi 6-4 6-7 è l'opportunità di un tiro libero per Francesco Papa preziosissima questa rimessa ma preziosissimi questi ultimi secondi di Cesena che hanno ringhiato sulle rimesse di Orsi Nuovi non lo so io voglio sottolineare ancora la prudenza ma cosa ha fatto Papa cosa ha fatto hai visto come ha segnato e come è andato a prendersi il fallo di di Galmarini Cesena Cesena deve marcare lungo prima bisogna fare canestro e poi e poi e poi ha difeso lunga pressione sulla rimessa dentro il canestro di Francesco Papa 20 secondi il fallo di Matteo Battisti a fermare il tempo Orsi Nuovi vorrebbe l'antisportivo è il secondo fallo di Matteo Battisti a fermare il cronometro 6-5 6-7 Tassinari in lunetta fallo a 19 e 19-9 20 secondi Tassinari in lunetta per altri due tiri liberi importantissimi nell'economia di questa partita va il primo e questa è un'iniezione di fiducia per il giocatore di Orsi Nuovi dentro il primo di Tassinari meno 3 Tigers 19 secondi 2 su 2 non trema non trema Tassinari non trema la mano di Tassinari poi intelligente il fallo di Timperi a 14.08 dal termine del match Timperi fa il fallo su Antonio De Fabritis in ultimo che mi ripeta la responsabilità sulle spalle 65-69 meno 4 per Cezena la responsabilità diceva tutto sulle spalle 65-69 sbagliano è buono è buono è buono il primo tiro libero di Antonio De Fabritis 6-6 6-9 emozioni ancora emozioni qui al Cari Sport 6-7 6-9 19 secondi meno 2 per Cezena rimessa a tutto campo Timperi il fallo il fallo antisportivo il fallo antisportivo di Matteo Battisti al limite probabilmente ci sta ci sta terzo fallo di Battisti ricapitoliamo Orzinuovi avanti di due punti 6-9 6-7 10 secondi e 3 decine al termine Timperi lunetta per due tiri liberi lo sbaglia lo sbaglia per Orzinuovi avrà ancora il possesso della palla visto l'antisportivo altro tiro libero altro tiro libero per Timperi questa volta c'è meno 3 per Cezena ballo in mano però ad Orzinuovi la dimessa per Orzinuovi 10 secondi 6-7 70 che partita una partita vincente che Orzinuovi si sta portando a casa rimessa troppo libero Varaschini che giustamente fa scorrere il tempo Battisti il fallo su Timperi terzo fallo anzi quarto fallo per Battisti 7 secondi fallo di Battisti e adesso sì adesso è finita su Timperi ancora ancora su Timperi a cronometro fermo è buono adesso è finita chiude la partita ragazzi 2 possessi di vantaggio 67 a 71 4 punti di vantaggio sta mettendo 2 possessi fondamentali Timperi tra 6 gli avversari e così è più 5 defa 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 fino in fondo perde la maniglia Matteo Battisti la bomba 5 decimi a 5 decimi la bomba di Battisti e Orzi e Orzi Nuovi e spugna il Carisport 70 a 72 con l'inutile bomba di Matteo Battisti ci sono ancora il fallo praticamente a tempo scaduto i tiri liberi di Varaskin sul 70 72 Orzi Nuovi e spugna il Carisport rimasto imbattuto fino ad oggi e soprattutto a corsa sulla testa della classifica Orzi Nuovi si porta a meno 2 da Tigers in compagnia di Ozzano 2 su 2 è una brutta battuta d'arresto questa per i Tigers ma che non compromette per i Tigers ma è una battuta d'arresto che non compromette assolutamente nulla devono recuperare riassettarsi appunto di vista mentale i ragazzi di Lorenzo soprattutto bisogna continuare a giocare di squadra e non a pensare di vincere le partite da soli da Cesena è tutto Orzi Nuovi e spugna il Carisport con il puntezzo di 70 74 noi ci risentiamo domenica prossima da Vicenza per Vicenza Amadori Tigers Cesena buonasera a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti!